carissimi amici del canale youtube dentro la notizia il ministro lamorgese ha escluso che in italia sia in corso una dittatura sanitaria ma è realmente così non saremmo noi a dare una risposta ma la storia sia del passato citato dal ministro sia attuale sarà il confronto tra nazismo e democrazia a dimostrare da che parte realmente ci collochiamo a caserta margine del comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica la ministra dell'interno luciana lamorgese ha espresso il suo giudizio ai cronisti sulle manifestazioni di protesta svoltesi in tutta italia lo scorso fine settimana contro il green pass la lamorgese ha detto guardiamo con attenzione alle manifestazioni dei novax che ricordo non erano autorizzate anche perché sono stati usati simboli ormai passati penso alla stella di davide prima cosa etichettare le persone bollarle con un marchio che sia una stella un triangolo o un appellativo ricorda tanto il nazismo i manifestanti non erano solo novax e frivax ma anche vaccinati più o meno convinti più o meno ricattati tutti quanti uniti dalla preoccupazione per lo stato democratico del paese anzi tutti quanti convinti del pericolo di precipitare in una dittatura la dittatura del green pass cara ministra il suo tentativo di discreditare i manifestanti ha fatto un clamoroso buco nell'acqua come dicevamo la titolare del biminale ha escluso che nel paese ci sia una dittatura sanitaria vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia tutti i provvedimenti del governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica e perché la vera libertà è poter andare dove si vuole senza danneggiare gli altri e allora la signora lamorgese ma anche draghi speranza e tutti quanti condividono questa affermazione devono spiegarci perché persone sane e ribadisco sane non assolutamente malate né portatrici di malattie contagiose verrebbero discriminate non potrebbero neanche bersi un caffè comodamente seduti a un bar ma al bancone sì non potrebbero neanche mangiare all'interno di un ristorante se privi di quel pass ricorda tanto la segregazione razziale posti per bianchi e posti per neri vero signora lamorgese che in italia non è in corso una dittatura pensando ai simboli del passato di cui parla lamorgese viene alla mente che il regime nazista ritenuto una delle più aspre dittature fu caratterizzato da sperimentazioni sanitarie su larga scala un incessante propaganda giornaliera un passaporto ariano l'annempas il pensiero unico con la totale censura della libertà di espressione questa era una dittatura ma queste cose non stanno accadendo oggi vero ministro lamorgese no queste cose non avvengono il nostro è un paese democratico vero inoltre ministro le volevo dire che sa un po ma solo leggermente di razzismo vietare l'ingresso nei ristoranti agli italiani sani che pagano le tasse per far spazio ai clandestini magari pure criminali e infetti ma loro il green pass non è richiesto ce lo spiega questo ministro non è razzismo questo non siamo in dittatura vero ma sempre più persone si stanno risvegliando dal sonno decennale e si rendono conto che stiamo precipitando sempre di più in una dittatura marcia più stringe la corda attorno al collo più gente si risveglia ce ne rendiamo conto anche guardando cosa accade altrove i governatori americani che hanno a cuore la libertà e il benessere dei propri cittadini non li stressano con tutti questi controlli leggi e leggine restrittive delle libertà personali sono già 20 stati tutti con governatori repubblicani che hanno vietato i pass vaccinali in 11 stati i governatori li hanno vietati attraverso ordini esecutivi nei restanti nove stati i legislatori hanno approvato leggi che vietano i pass vaccinali ma guarda caso i suoi compagni solo quattro stati california new york hawaii e oregon hanno facilitato la creazione di passaporti di stato digitali attestanti la vaccinazione o esentato gli individui completamente vaccinati da alcune restrizioni covid se possono fornire la prova della vaccinazione dicevamo non a caso tutti e quattro gli stati hanno governatori democratici scusate volevo dire demon cratici sì perché vedete non è una questione politica proprio perché 19 stati con governatori democratici non hanno né proibito né imposto i pass vaccinali a qualsiasi livello governativo e allora capiamo almeno le persone uscite dalla matrix e con un certo grado di risveglio comprendono che è una questione spirituale da una parte la sua signor ministro vi sono gli accoliti della cupola satanica del gran dragone dall'altra vi sono coloro che hanno impresso nel dna la libertà dei popoli e sappia con certezza signor ministro perché ci ho parlato direttamente che non pochi delle forze dell'ordine non si schiereranno mai con le diaboliche elite e ne approvano il suo operato non tanto perché si tolgono il casco non cadiamo nuovamente nell'errore di etichettare le persone ognuno ha un suo grado di consapevolezza ma perché hanno aperto gli occhi e hanno scelto di rimanere esseri umani liberi e non di venire schiavi robocop odiatori dei popoli no signora ministro la sua democratica tirannia non è per il bene del popolo e chi usa la testa lo ha compreso pur non essendo un novax prima di concludere volevo ringraziare la bife international che consiglia occhiali con protezione luce blu al 100% made in la luce blu è emessa da lampadina led e all'oxeno e dagli schemi di pc tablet smartphone e tv e causa disturbi quali occhio secco e occhio rosso astenopia mal di testa stress ossidativo rischi di degenerazione maculare e cataratta insonnia inibisce la secrezione di melatonina uno studio dimostrato che dopo due settimane di utilizzo di lenti con filtro per la luce blu vi è stato un aumento della durata del sonno di 24 minuti e un aumento di melatonina del 58 per cento carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 100.000 iscritti e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo purtroppo però le donazioni sono molto poche mettendo a rischio il nostro lavoro è particolarmente importante in questo momento il vostro sostegno chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi al canale mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin